Buongiorno amici ascoltatori, io sono Giussi Armone e sono qui oggi per parlarvi di politica insieme a Gianluca Tassone. Gianluca, qui do roddo il tu perché siamo amici da sempre, è candidato alle prossime elezioni regionali nella lista Iole Santelli Presidente. La sua circoscrizione di riferimento è la circoscrizione centro, quella che abbraccia le città di Catanzaro Crotone e Vibo Valencia. Gianluca è un volto nuovo nel panorama elettorale locale ma ha alle spalle una lunga esperienza politica. Oggi cogliamo l'occasione per raccontarvi un po' di lui. Sì, sono un professionista, un informatico e ho lavorato sempre in questo settore. Sono appassionato di politica da sempre. Mio padre, come molti di voi sanno, ha fatto politica per molti anni e io sono cresciuto con la politica a casa, sono cresciuto con quella politica che era la politica fatta di tante persone, era fatta di amicizie, era fatta di dibattito ed ci si guardava negli occhi parlando dei problemi e affrontando i problemi. Bene, entriamo subito nel vivo dei contenuti di questa campagna elettorale. Lo slogan di Gianluca è il tuo voto libero, un significato ampissimo che lui proverà a spiegarci. Il voto libero perché specialmente in Calabria, ma poi non solo in Calabria, si tende ad avere un voto che non è mai libero. Il voto è subordinato, è subappaltato, il voto si dà come contropartita. Io non chiedo un voto perché qualcuno deve a me qualcosa, io chiedo un voto libero perché voglio rappresentare e credo di poter rappresentare al meglio il mio territorio, la mia terra. Questo è il voto libero, senza sottomissioni culturali, senza ricatti, un voto libero e libero in tutti i sensi. Bene, di questi tempi si leggono e si ascoltano proclami di ogni tipo. La tua strategia comunicativa, diversamente da tante altre, è stata diversa, è stata leggera ma concreta, cioè vicina ai problemi reali dei calabresi, quei problemi che loro affrontano nella loro vita quotidiana. Se potessi possiamo riassumere il tuo programma in poche parole chiave, quale potrebbero essere? In questa campagna elettorale si sente tanto parlare dei problemi che attanagliano ovviamente la nostra terra. Fare un elenco delle cose che non vanno è facile, lo fanno tutti e lo facciamo quotidianamente. Anche incontrarsi al bar e dire cosa non va è in qualche modo fare politica, quindi l'elenco dei problemi lo conosciamo. Ma ci sono cose su cui secondo me bisogna puntare. Non si può pensare di potersi candidare a governare questa regione senza sapere cosa fare dei depuratori, senza aiutare i comuni e senza comunque capire bene cosa non va nell'impianto di depurazione. Perché ogni qualvolta ci sono delle macchie sul mare, c'è la schiumetta sul mare, è una ferita enorme nel cuore della Calabria e della nostra terra. Non si può pensare di puntare al turismo, di puntare ai borghi o all'enogastronomia se prima non si risolvono questi problemi che possono sembrare banali, ma bisogna concentrarsi. La Calabria è una regione che soffre tantissimo anche delle scelte non gratificanti, non edificanti. Se noi andiamo a pensare che per sanare i debiti della sanità pregressi al 2010 è stata istituita una tassa che poi conoscono, che è l'IRBA, che è una tassa sui carburanti. Questo significa che noi in Calabria andiamo a pagare i carburanti più di altre regioni, 2-3 centesimi più di altre regioni e questo va ovviamente a discapito dei cittadini, ma a discapito anche di quegli imprenditori che investono ad esempio nelle pompe bianche e devono pagare e hanno una tassazione superiore ad altri. E poi la Calabria è una terra di tradizioni e bisogna puntare sulle tradizioni. Io pensavo alle bande musicali, ad esempio, le bande, i cori, sono tutte cose che si stanno perdendo e che sono parte integrante della tradizione calabrese. Noi parliamo di borghi. I borghi con le loro bande e con le loro tradizioni enogastronomiche sono qualcosa da tutelare, ma tutelare in qualunque modo, anche attraverso finanziamenti ad hoc. Allora Gianluca, mi sembra di poter riassumere in poche parole il tuo impegno, parlando di vivibilità, opportunità di speranza, di solidarietà. In questi giorni tu sei stato protagonista di una manifestazione a favore della riapertura di un servizio territoriale per l'assistenza sanitaria pubblica. Quindi, diciamo, sul concetto di solidarietà ti sei già espresso ampiamente. Se noi volessimo parlare invece delle opportunità che la Calabria ha a disposizione e che non sono tenute per niente in conto, non sono valorizzate, quale potrebbe essere uno spunto importante? Beh, diciamo innanzitutto che di solidarietà bisogna parlare, ma se ne parla forse troppo bisognerebbe fare atti concreti e agire. La sanità calabresa è una vergogna ed è una vergogna per come viene gestita e per come vengono gestiti sia i medici che i pazienti. Bisogna razionalizzare il tutto. Ora, sembra una frase abbastanza fatta e sembra anche populista se si intende in questo senso. Ed è una frase facile da dire, probabilmente, però si deve mettere mano seriamente. La sanità che rappresenta il budget maggiore della Regione Calabria non può essere considerata questo. Molto spesso viene considerata soltanto un grosso budget da distribuire. E questo qua non ci consente di fare, di essere solidali come dovremmo essere, non ci consente di aiutare tutte le fasce. E questa è la cosa più importante. In Calabria non si aiutano tutte le fasce. Si tende a privilegiare un ceto medio-alto. Andando avanti, la Calabria ha tantissime opportunità che devono essere sfruttate. Io parlavo anche altre volte, in altre occasioni, di centrodestra, di candidato del centrodestra. Il centrodestra è stata una scelta perché credo che abbia in questo momento la squadra migliore per cogliere le opportunità che questa terra può offrire. Non credo che una sola consigliatura regionale, un solo governo regionale, un quinquennio, possa risolvere i problemi. Però si deve iniziare innanzitutto a vedere le priorità, quindi a fare un elenco di priorità. Perché diversamente, se i giovani se ne vanno, e io faccio parte di una generazione che non c'è più, la mia generazione se ne è andata via, i miei compagni di scuola non ci sono più, quella generazione se ne è andata via dalla Calabria ed era una generazione comunque capace, tanto capace che si è distinta altrove. Se noi non consentiamo e non troviamo le priorità per dare opportunità di stare in Calabria e le generazioni se ne vanno via, difficilmente riusciremo a crescere. Perché comunque le eccellenze che sono rimaste qui sono tante, ma non sono probabilmente sufficienti per dare quello slancio di cui oggi abbiamo bisogno. Proprio sul tema delle eccellenze mi ricollego ad un'eccellenza che tu ritieni in questo momento sia a rischio, quella dell'olio calabrese che potrebbe essere una bandiera per la Regione, ma che in questo momento forse è sottovalutata. Sì, noi dobbiamo puntare tantissimo sull'agricoltura, poi parlavo prima di sanità, poi la seconda spesa della Regione Calabria è in agricoltura, però dobbiamo anche lì in agricoltura cominciare a pensare a imprese agricole che siano un pochino più competitive e sull'agricoltura si deve pensare tanto. Penso agli olivi, penso alle malattie che in questi ultimi anni stanno colpendo gli olivi e quindi a discapito di tanta gente che sta iniziando a investire in agricoltura lo sta facendo con un prodotto che dovrebbe essere il nostro oro, che è l'olio d'oliva. In questo la Regione Calabria deve avere una classe dirigente capace di tutelare le nostre eccellenze. L'olio d'oliva calabrese è un'eccellenza, lo è l'olio italiano, l'olio d'oliva italiano, non facciamo entrare altre cose e cerchiamo di puntare sulla qualità. Il nostro è un olio di qualità, non dobbiamo svenderlo e dobbiamo riuscire ad avere una concorrenza che possa essere equa. Quindi io direi che si deve tanto, tanto, tanto puntare su questo e aiutare anche gli agricoltori che hanno avuto comunque problemi in quest'ultimo periodo. Gianluca, prima facevi riferimento alla dolorosa questione della depurazione, ma non credi che questo possa rappresentare anche una sorta di scollamento ormai tra la politica delle stanze dei bottoni e la gente reale o uno scollamento tra la linea programmatica e i comuni che poi non hanno le risorse per poter adempiere le indicazioni regionali? Sì, innanzitutto il discorso è impostato correttamente, nel senso che la politica va fatta vis-à-vis e ci si deve parlare, quindi non ci si deve chiudere e ragionare in maniera burocratica. La politica non è burocrazia, la burocrazia devono farla altri. Il politico è quello che si rapporta col territorio e si rapporta con la gente. Il problema della depurazione è un problema vasto, perché nel 2020 ancora ci sono sia case sia interi comuni che non sono allacciati alla rete fognaria, ma questo non si deve fare con un'ottica di polizia, quindi di repressione, ma si devono aiutare i comuni e incentivare i comuni e incentivare i cittadini a mettersi a norma. Siamo nel 2020, il 2025 spero che in Calabria ci siano condotte fognarie che garantiscano il 100% degli scarichi. Questo è un punto fermo. Se non facciamo queste piccole cose, poi tutti gli altri discorsi vengono meno. Bene. Facevi accenno prima ad un altro discorso caldo, ad un altro problema caldo della nostra regione, quello dell'emigrazione dei giovani. Tu simpaticamente ti definisci un diversamente giovane che ha avuto la possibilità di sperimentare un'esperienza fuori da casa e poi però di poter tornare. Oggi questo sembra quasi un'utopia. Cosa potremmo dire su questo argomento di cui tanti stanno facendo il loro cavallo di battaglia? La Calabria ha un richiamo irresistibile, quindi io sono tornato in Calabria pensando ai miei figli principalmente. Lo dico sempre questo, lo dico in ogni intervista, lo dico in ogni evento. Io sono tornato in Calabria perché volevo che i miei figli crescessero in Calabria, che avessero le possibilità che ho avuto io. Crescere i figli in Calabria è la cosa più bella del mondo perché crescono con le famiglie, possono andare a mare, il mese di luglio vanno a mare, se si hanno le famiglie allargate, se si ha la fortuna di avere i nonni, vanno come le mie figlie a mare con i nonni. Abbiamo una montagna bellissima, quindi poter dare a loro le possibilità che ho avuto io è stata la prima cosa, il primo impulso che mi ha portato a trasferirmi in Calabria. Certo, le condizioni economiche di altre regioni, io vivevo a Roma, ho vissuto per un po' di anni a Roma, ma Lombardia, Veneto, il lavoro e le prospettive di lavoro e le possibilità di lavoro sono completamente diverse. L'obiettivo, ed è facile dirlo, ma bisognerebbe farlo concretamente, è quello di dare le stesse opportunità che si hanno in altre regioni, anche qui in Calabria. L'emigrazione è una ferita enorme, è una ferita sia per chi resta e vede i propri congiunti partire, sia per chi parte. Stare fuori non è bello per nessuno, nessuno di quelli che torna magari con qualche euro in più è felice realmente, specialmente se si è calabresi si è felici molto di più nella loro terra, nella nostra terra. Il tema dei giovani però si lega inevitabilmente al tema della formazione. Ora tu in tante occasioni mi hai parlato di possibilità reali e concrete che ci sono nella nostra regione, se solo si volesse puntare su alcuni progetti strategici. Prima facevi accenno alle bande musicali. Questa è un'opportunità concreta, davvero portata di mano sotto casa per tanti ragazzi che possono sfruttare questo progetto come un momento anche di alta formazione. Assolutamente sì, ma questo in un'ottica molto più ampia che è l'ottica dei borghi, è l'ottica del turismo enogastronomico, è l'ottica di valorizzare la Calabria, le feste che si fanno ad agosto nei comuni, le sagre, tutto questo è Calabria, tutto questo fa parte della nostra tradizione, ma tutto questo non è solo esclusivamente folclore, ma può essere benissimo un'opportunità. Se noi riusciamo, e l'hanno fatto in altre regioni, lo hanno fatto anche in Basilicata, anche in Puglia, noi abbiamo le potenzialità per farlo molto meglio di altre regioni. È una questione di risorse? Non è nemmeno una questione di risorse, è una questione secondo me di priorità, quindi lo stiamo dicendo in questa campagna elettorale un po' di candidati, basta risorse a pioggia ma basta davvero, quindi concentrarsi su settori strategici, puntare su delle priorità e cercare di farle crescere. Alla fine se io do 10.000 euro a un amico, probabilmente gli risolvo il problema per un anno, ma non gli risolverò il problema della sua famiglia, dei suoi figli e del suo futuro. Noi dobbiamo pensare a risolvere il futuro delle persone, perché se no diamo il contentino, magari poi andiamo a chiedere quello che dicevo prima che non è il voto libero, però alla fine non abbiamo risolto nessun problema, né quello di dare serenità alle persone, né quello di dare prospettiva alla Calabria. Gianluca, tu sei un ingegnere, un informatico, quindi sei abituato a trattare con i numeri, non ti dispiacerà se ti riporto alla cruda realtà delle statistiche. Le elezioni regionali, leggo per non sbagliare, del 2014, hanno visto un'affluenza alle urne del 44,07%, rispetto a meno del 60% precedente. Ora il trend, come si vede, è negativo, ma è destinato a diminuire, perché la gente è sempre più avulsa dal dibattito politico. Quanto è importante scuotere in questa fase gli indecisi? È importantissimo anche perché la maggior parte dell'elettorato che non va a votare è l'elettorato più giovane, quindi è la fascia di età che può rappresentare realmente il cambiamento. Se quella fascia di età non va a votare, non può esprimere il proprio dissenso, non può provocare il cambiamento. L'unica possibilità in un paese democratico quale siamo per dire la nostra, per migliorare, per cambiare, è quello di votare, di farlo attraverso il voto libero. Il voto libero bisogna votare chi ci rappresenta meglio e chi può al meglio rappresentare le nostre idee e la nostra voglia di cambiamento. Non andando a votare, significa poi lasciare la Calabria. A chi voti li prenderebbe comunque. Vi ricordiamo che Gianluca Tassone è candidato al Consiglio regionale nella circoscrizione centro, quella che abbraccia le città di Catanzaro, Crotone e Vibbo. Ti lascio un momento libero, libero come il tuo voto libero, per rivolgerti ai tuoi elettori. Chiedo il vostro voto libero e vi chiedo una preferenza libera da condizionamenti e sottomissioni culturali. Chiedo il 26 gennaio di darmi la vostra preferenza perché credo di poter essere artefice di un cambiamento reale in meglio per la nostra regione. Il voto è semplice, quindi basta mettere una croce sulla lista Iole Santelli presidente e scrivere il mio cognome Tassone. Benissimo, vi aspettiamo alle urne. Grazie Gianluca Tassone. Grazie a tutti per l'attenzione. Sono Gianluca Tassone, candidato al Consiglio regionale nella circoscrizione centro. Chiedo il tuo voto libero, libero da condizionamenti e da sottomissioni culturali, perché solo un voto libero può disegnare una Calabria migliore. Rendetevi artefici del cambiamento che volete per i vostri figli, con la garanzia del mio impegno per il nostro futuro. Grazie a tutti per l'attenzione.